Non siamo morti con Berlusconi. Forza Italia inaugura una sede a Sassari e si fa battagliera. Sarebbe lontano il declino del partito che anzi aspira a risalire la china. Penso che la vera novità nel panorama politico sardo sarà questa Forza Italia rinnovata nei contenuti e soprattutto anche nel suo radicamento che torna ad essere di attualità in tutto il territorio. Stilato l'organigramma del coordinamento provinciale, gli azzurri confermano il corredo genetico dei tre ismi riformismo, moderatismo e atlantismo. Forza Italia ha il compito di porsi come punto di riferimento di tutti i moderati in questo centrodestra pluralista. Lavoriamo già alle liste per le regionali e per le comunali prossime, compresa la città di Sassari. Vorrebbero giocare un ruolo di prima linea alle prossime consultazioni elettorali e non nascondono le critiche e l'attuale giunta Solinas. Per Forza Italia la coalizione di centrodestra deve poggiarsi su altri assi. Aperto soprattutto alle nuove richieste e i contributi che potranno venire da forze politiche nuove, da associazioni culturali e dal mondo del civismo. Grazie. 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 Grazie.